Una giornata che passerà alla storia per l'isola di Gorgona. È stato riattivato dal porto di Livorno il collegamento di trasporto marittimo per passeggeri ad opera della società Toremar. Nel viaggio inaugurale è presente anche l'assessore ai trasporti della regione toscana Vincenzo Ceccarelli. Un servizio in più per le isole dell'arcipelago rendendo così più semplice la vita di chi vuol raggiungere Gorgona. Ma non solo, adesso è più vicina anche l'isola di Capraia. Il nuovo servizio rende meglio raggiungibile Gorgona, questa perla dell'arcipelago toscano, e porta degli indubi benefici anche nei collegamenti tra Livorno e Capraia. Perché separando i due servizi e rendendoli indipendenti si agevola e si accorcia soprattutto il tempo di percorrenza per raggiungere l'isola di Capraia e si dà anche la possibilità attraverso un mezzo adeguato di poter raggiungere l'approdo di Gorgona. La Toremar effettuerà il servizio due volte la settimana grazie alla collaborazione con Toscana Mini Crociere. Soddisfazione anche da parte di Matteo Savelli, amministratore delegato di Toremar, per l'avvio della corsa da Livorno a Gorgona. Permetterà all'isola, ai detenuti che sono qua, di avere un contatto sempre più con i propri parenti e ai residenti di venire più spesso e perché no lavorare ora con il parco e la polizia penitenziaria per potenziare le visite in questi giorni in cui noi facciamo il servizio e perché no trovare anche altri giorni per dedicare alle visite guidate. Oltre al collegamento per Gorgona sono in vista delle importanti novità per l'arcipelago toscano. Tra queste l'implementazione delle corse per Capraia il sabato, in primavera e autunno e l'applicazione di una tariffa residenti anche per chi risiede a Livorno.